E questo è un esempio di video che sta girando il Samsung Galaxy S5 in Ultra HD Zoom sempre 4x, torniamo indietro, proviamo il pan veloce Riprendiamo Nicolò che non ce la fa più, non ce la facciamo più, siamo veramente cotti E per vedere un po' i colori riprendiamo anche il Gear Ripeto, video che sta girando col Samsung Galaxy S5 in Ultra HD